Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Hey Astra, accendi la luce. Grazie.